Perché fino a oggi devono portare il gasolio e il tesido spedere tutta la cavagna, prima di spedale e poi le scuole. E vuol dire che questo non è ironio quando servire queste cose? Perché come faccio? Buongiorno a te, faccio pure i scuole. Perché? La produzione è con la bella. Ah, benissimo. Perché se allora si appoggiano al presidio dello sciopero degli autodestruccatori, erano autorizzati a procedere, a fare il suo percorso. No, voglio dire che non si era nemmeno di farlo perché il salvatore ci disse che avevano avuto un sciopero e non potevano consegnare. Non dovete incutare a chi non ha colpa una colpa che non ha. Assolutamente. Vuol dire, in questo frangente il sindaco non ha nessuna colpa. L'amministrazione comunale sta facendo tutto quanto necessario affinché si possa promuovere al... Ma questa è una cosa da angolo. 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 Un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa. Ieri hanno... Scusate, scusate, il fatto è un altro. Ieri hanno affurato con i tecnici che questo impianto è obsoleto, non va bene, perché in 10 giorni hanno consumato 1.300... Ma ieri no! Gli provo, potremmo, se c'è vero. A me non è 10 giorni. C'è il polizio Casaro Barro. Polizio Casaro Barro. Non va bene niente, ieri sera, ieri sera mi ha telefonato. Ieri sera, noi abbiamo parlato ieri mattina, ieri sera mi ha telefonato e dice che ha fatto perché voleva darmi le chiave. Io mi sono procurato per dargli e dice, no, noi abbiamo trovato che ce l'aveva raccosta. E dice lui. Siamo andati a fare il tuo parlovo, dice. E abbiamo constatato che nessuno accorta, perché là c'è un impianto che consuma molto. Consumo 24 litri all'ora, mi sembra che sia. No, no, 130 litri al giorno. 130 litri al giorno, c'è nessuno che lo... E fortunatamente che io ho i bidelli nostri che sono consapevoli, alle 2 quando finisce va a chiudere. Non staccano prima, non staccano prima. Fa pure freddo, i miei figli dicono che già alle 11 fa freddo. I bambini dicono che... Anzi, il nostro Paese sarà abbastanza pochica. E' abbastanza mamma in gioco. Cioè, ma quanto si deve costare? Non c'è nessuno che non c'è nessuno che non c'è nessuno. Allora, no, no, signor Presidente. Non c'è nessuno che non c'è nessuno. Non c'è nessuno che non c'è nessuno. Non c'è nessuno che non c'è nessuno. Ma se noi sappiamo che si consumano 130 litri al giorno, mille litri di gasolio durano 10 giorni, perché non facciamo la richiesta prima? Prima! Prevenire è meglio che curare! Prevenire è meglio che curare! Preside, preside, preside! Non c'è nessuno che non c'è nessuno. Non c'è nessuno che non c'è nessuno. Non c'è nessuno che non c'è nessuno. Scusate! Ora si parla di ridd ancora. Ma io mi faccio parlare, però siamo stanchi di certe perzellette e di certe ricerire. Non è vero niente. Non è vero niente. Ma noi i suoi riguardi, io mi riferisco alla giunta comunale perché loro sarebbero... La giunta comunale sta facendo quello che è giusto che deve fare. No, assolutamente no! Assolutamente no! La giunta comunale ci sta mettendo in giro. No, non è vero niente. Ci sta mettendo in giro. E questo deve finire. Perché questo problema si crea solo a San Martino. Preside, 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 preside... E da anni siamo stanchi, siamo stanchi, siamo stanchi e siamo stanchi. Ma che dite cosa non dite? No, 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 signor Preside! No, 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 signor Preside! No, no, no! Preside! Sapete che sto dicendo io? Sapete che sto dicendo io? Sapete che sto dicendo? Non sapete che sto dicendo io? Non sapete che sto dicendo io? Quindi perché dite non ho? Perché dite non ho? Allora spiegate! E allora, se voi non mi fate spiegare, se voi non mi fate spiegare, no, 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 non sapete cosa sto dicendo perché mi vede o no. Questo è il problema che dice lui, non è vero. Perché non è vero? Perché è lo stesso problema, ce l'abbiamo avuto da amato. L'abbiamo avuto da amato, va bene. I soliti frazioni. I soliti frazioni. E' lampando un fatto. Ma scusate, ma fai l'altro. Non c'è materiale scolastico. No, 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 aspetta l'altro, c'è da l'altro. Pure la carta e genica. Questi problemi. No, no, aspettate. All'esilo possono pure la carta e genica, se ci si è raggiunto. Voi non dovrete andare subito a parlare, se uno non ha finito. Signori, il problema del italiano non ci sono. Perché? Perché gli impianti non sono più per i gasoli. Andano passati con un batano e c'è un discorso di me. E' un discorso di me. Ma è stato un discorso di gli altri. Perché non? Perché? Perché gli amministratori? Perché non l'hanno fatto anche a San Martino come l'hanno fatto a Torino? Appunto, i commissari. Perché c'erano i commissari che l'hanno fatto? No, i commissari andavano a scuola, andavano a scuola. Volevano per me a chiunque, non ci pavano c'era due, non c'entro. Ma scusatemi, i commissari che sono stati? Io, sapete da quant'è che sono stato qua? Scusatemi, quanti sono i sopra ospiti di questa scuola, scuola media? Da cinque anni. Voi sapete i commissari cosa hanno fatto per quella scuola media? La scuola media. Nulla. Nulla. Sapete chi ha iniziato i lavori che vuol darsi che si finiscono quest'anno? Non faccio no. Per favore, per favore, per favore. Per favore, per favore. Non sa iniziato. Non c'è non iniziato. Per favore, presidente. Per favore, presidente. Per favore, presidente. Perché mi pare che ho avvenuto se non facendo politica? rifare rifare il metallo ma oggi allora voi mi insegnate voi siete direttore io sono una persona educata e che alzo la mano chiedo solo una domanda quando abbiamo il gasolio per portare i nostri figli a scuola quando abbiamo il gasolio per portare i nostri figli a scuola domani mattina se domani mattina non c'è il gasolio ci organizziamo con un fumo e andiamo dal prefetto grazie se non basta il prefetto chiamo Mastriscia guardate ho la figlia di vent'anni e da vent'anni che lottiamo per questa storia vent'anni senza che andiamo al comune senza che andiamo al comune a manifestare i nostri problemi e noi siamo spituati di vivere nella merda è un progetto iniziato nel 2005 finanziato nel 2006 ora non è né del sindaco Romeo è all'epoca Bias che c'erano sotto Smedda progetti fatti che non sono mai stati fatti preside preside lei lo sa che sono andato preside mi avevamo fatto vedere dei documenti a me personalmente altri rappresentanti di classe che a scuola st'estate andava restaurata a settembre la scuola era in perfetta condizione non hanno fatto niente i soldi dove sono? arrivano milioni sono arrivati 280 mila euro per la scuola elementare e dove sono? eh signor preside per favore lei è stato apprezzatore 180 mila euro erano destinati a questo perché non aveva né misure di ma fatemi parlare io già non è visto che andai alla figlia a canna è una cosa per colante senza via d'uscita senza servizio e senza niente salite a vedere salite a vedere salite a vedere non lo sapete perché se sapete come sono adesso non si vanno più prima che dovevamo venire adesso ci stanno più un papà l'ha giustato Claudia aspetta Valeria aspetta io posso dire una cosa i lavori per la scuola sono iniziati giusto no? iniziati o perché per opera di cultura sono iniziati iniziati ma ci sono anche i soldi per questa scuola Assessore qua non siamo per fare politica o campagna elettorale non è politica sto spiegando la situazione alle mamme che è giusto che lo sappiano che questa scuola deve iniziare i lavori c'è un contributo una cosa di 180 mila euro che dovrebbe iniziare quello che c'è la vuole ma voi pensate che è tutto questo all'era di oggi gli visti i sismici che ci sono specie non dà i miei figli che hanno un istituto proprio precario non abiti né la via di puga né servizio non c'è niente ma si rischia già si rischia già a compiere si volevano fatti anni preside lei lo sa che lei lo sa che io con una delegazione di mamme prima di Natale prima di Natale siamo andati a reclamare un diritto penso che penso che è un diritto al comune e un signore si è permesso di darmi del mafioso lei questo lo sa? non lo vuole sapere no non lo vuole sapere